Un albergo a 5 stelle con 132 camere, un centro benessere e una clinica specialistica per le cure estetiche e la riabilitazione di tipo ortopedico. Si sogna e si progetta in grande per la riqualificazione delle terme di Carignano dopo l'acquisto del gruppo Romani, che tramite l'avvocato Natali ha anticipato il rendering alla giunta comunale. Il rilancio di questo luogo, abbandonato da anni, potrebbe essere alle porte per la gioia di tutti i fanesi e in particolare di chi si è battuto in prima persona per la loro riapertura. Al momento sono molto soddisfatta perché chiaramente sono partita dal nulla creando il mio gruppo e adesso comincio a vedere qualcosa che si comincia a concretizzare, quindi è una grande soddisfazione. Lei è in contatto con l'avvocato Natali? Sì, io sono in contatto con l'avvocato Natali, anzi è sempre molto gentile, molto premuroso e molto attento ai bisogni della popolazione. Quindi mi fa molto piacere questa cosa perché chiaramente non viene visto più come una persona, uno straniero, tra virgolette, quindi è una persona che comunque tiene molto alla popolazione. Il rendering lo ha visto? Le è piaciuto? Allora, io il rendering a grandi linee l'ho visto, devo dire la verità, non ho visto ancora completamente tutto, anche perché mi vogliono fare una sorpresa. Come già annunciato però, il progetto comprende anche la riqualificazione del parco e la ristrutturazione della palazzina. Si pensa poi ad un cantiere unico nel quale lavoreranno più imprese per velocizzare i tempi. La palazzina verrà molto molto valorizzata, infatti si pensa appunto di creare un posto per degli eventi e non saranno eventi da poco. Quindi mi fa molto piacere anche questo perché in realtà poi avremo modo di far soggiornare persone molto molto importanti. Quindi sarà una palazzina veramente molto utilizzata anche per presentazioni di libri, anche per concerti, poi vedremo insomma tante o altro. Stesso discorso per la valorizzazione dell'acqua? Stesso discorso per la valorizzazione dell'acqua. L'acqua appunto è come ho sempre detto insomma è un'acqua portentosa, quindi proprio miracolosa a livello di salute e verrà utilizzata per diverse patologie e tra l'altro avremo una cosa in più che saranno queste piscine termali che sono diciamo molto comuni in altre regioni d'Italia, cosa che qui da noi invece non è mai avvenuta. E l'acqua nella risoluzione delle patologie anche delle vasculopatie periferiche è veramente molto efficace. Si spera anche in una convenzione da parte della regione Marche, ma ora quali sono i prossimi passi? I prossimi passi appunto è un po' a livello di politica che bisogna che ci sono delle situazioni che un po' ingarbugliate che devono essere un attimo risolte. Però io personalmente ritengo che qui si deve aprire ragazzi, si deve aprire, c'è poco da fare. Poi vedremo successivamente quello che sarà. Se la clinica viene convenzionata ben venga, se la clinica viene privata ben venga. Vedremo come andrà avanti. Qui noi dobbiamo riprendere, dobbiamo riprendere il turismo, dobbiamo riprendere l'economia e quindi come andrà andrà penso che vada bene comunque. A questo punto vuole lanciare un appello agli amministratori locali? Assolutamente sì. Lanciamo un appello innanzitutto al nostro sindaco, visto che si è preso l'impegno di contattare la sovrintendenza e sappiamo tutti che nel momento in cui lui farà questo passo poi ci sarà la presentazione del progetto e quindi noi ci aspettiamo ben presto, data ora e luogo dove avverrà il tutto.